DOMS, parliamo di DOMS oggi ho fatto, la settimana scorsa mi sa che è uscita una domanda sul Q&A e siete tutti impazziti, totalmente perché ho detto che i DOMS dovrebbero percepirsi poco, i DOMS non sono un segnale positivo quindi da che tutti li ricerchiamo, perché ammettiamolo, e lo ammetto anch'io, li ricerchiamo e ammettiamolo che anche se io so che non sono un segnale positivo quando sento quei DOMS fitti, ho quel senso di godura, tipo della serie mamma mia quanto mi sono violentato, che bello però non sono un segnale positivo, quindi cerchiamo di capire perché quanto dovremmo sentirli, come gestirli, che cosa succede se li sentiamo troppo apocalisse, zombie, rane che cadono dal cielo, non lo so, qualcosa del genere quindi partiamo con l'idea di che cosa sono i DOMS DOMS, delayed onset muscle soreness, quindi affaticamento muscolare post esercizio, come si dice, delayed vabbè, insomma avete capito i DOMS sono sostanzialmente quei dolori, lo sapete che cosa sono i DOMS sono quei dolori che vengono tra le 24 e 48 ore dopo l'esercizio e è così semplice spiegare cosa sono perché realmente non sappiamo da un punto di vista scientifico che cosa sono e da cosa sono causati sappiamo che quando si cambia metodo di lavoro si fanno allenamenti molto diversi dal solito che vuol dire anche magari che di botto iniziate a fare un allenamento HIIT su tappeto skill meal, ok? siete abituati all'allenamento ipertrofici, fate l'allenamento HIIT e vi possono venire dei DOMS ai glutei, femorali, quadricipiti quindi allenamenti molto diversi l'utilizzo dello stretch, quindi stretch forzato utilizzo di eccentriche molto forzate, molto prolungate e carichi importanti, quindi tutto quello che tende a enfatizzare il danno muscolare effettivamente il danno muscolare e le micro lesioni possono essere considerate una causa più o meno diretta dei DOMS ecco, tutto questo tende a causare questi DOMS ma non sappiamo esattamente qual è la causa specifica, ok? quindi già da questo capite che DOMS non è uguale a un buon allenamento sappiamo che è successo qualcosa, ok? abbiamo probabilmente stimolato in qualche modo però che questo poi si traduca in più ipertrofia non è esattamente una certezza quindi che cosa sono i DOMS? sono i dolori che sentite quando succedono queste cose più o meno tutti li abbiamo sperimentati li sentite di più su alcuni distretti che tipicamente sono i distretti in cui si riesce all'atto pratico a causare più danno muscolare quadricipiti, femorali, il petto un po' meno sulle spalle, sui bicipiti, sui tricipiti un po' meno sul dorso è un po' più raro però anche questo è molto soggettivo ci sono persone che sentono tanti DOMS ci sono persone che ne sentono di meno quindi c'è anche una componente soggettiva e le persone che sentono tanti DOMS non è detto che crescano di più come le persone che sentono pochi DOMS non è detto che crescano di meno quindi questo è totalmente slegato al risultato ipertrofico ci sono anni e periodi e fasi in cui tendete a sentire pochi DOMS di nuovo magari all'inizio, magari alla fine della vostra carriera io è tanto che non sento DOMS molto accentuati li sentivo molto all'inizio, nei primi anni di allenamento adesso diciamo da qualche anno dopo aver iniziato ad allenarmi fino adesso sono via via diminuiti mi sento veramente poco 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 e di nuovo non c'è correlazione su quanto questo abbia un impatto ipertrofico generalmente il trend generale è che se i DOMS sono molto molto accentuati l'impatto ipertrofico è inferiore questo è stato più o meno confermato dalle evidenze scientifiche per capire il motivo possiamo dire che la risposta ipertrofica e il comportamento della nostra massa muscolare vive ed è conseguenziale un equilibrio tra la muscle protein synthesis quindi la sintesi proteica e il muscle protein breakdown quindi la distruzione e il catabolismo muscolare anabolismo o catabolismo sono due facce della stessa medaglia e devono convivere convivono esattamente perché insieme sono due facce di un processo metabolico quindi metabolismo uguale processi anabolici processi catabolici che sono specifici per ciascun tessuto quindi il nostro muscolo vive costantemente nel corso della giornata delle fasi in cui è anabolico e delle fasi in cui è catabolico per cui già pensare oddio catabolismo muscolare no eccetera no, sono essenziali, sono fondamentali per poi avere delle fasi anaboliche quando la muscle protein synthesis quindi la sintesi proteica vince ed è superiore al muscle protein breakdown abbiamo un anabolismo o una risposta ipertrofica quando è che abbiamo una fase di breakdown muscolare? quando ci alleniamo quando noi ci alleniamo c'è una distruzione del tessuto muscolare che è principalmente danno muscolare ma abbiamo anche una tensione meccanica che viene generata uno stress metabolico eccetera eccetera ora, i DOMS sono inevitabilmente pur non sapendo che cosa sono sono un segnale che c'è un recupero, un danneggiamento una situazione non ideale in corso quindi finché abbiamo DOMS è chiaro che il distretto non ha ancora recuperato dallo stimolo quindi sta ancora vivendo una fase di muscle protein breakdown sta pian piano ricostruendo, sta pian piano riparando quindi abbiamo fatto un video su quali sono i segnali che mi indicano che ho recuperato che non ho recuperato eccetera eccetera tra questi ci sono i DOMS, sono i più chiari, i più intuitivi finché ho DOMS non ho ancora recuperato io ho recuperato logicamente quando non ho più DOMS fermo restando il potersi allenare più o meno sopra i DOMS lo vedremo tra un attimo però generalmente questo indica che c'è un processo di breakdown che cosa vuol dire quindi sostanzialmente che se io mi vado ad allenare e i miei DOMS durano 7 giorni io ci metto 7 giorni a recuperare almeno se mi durano 3 giorni ci metto 3 giorni a recuperare se mi durano molto poco anzi scusate ci mettono almeno 3 giorni a recuperare se ci mettono molto poco per esempio un giorno o due giorni e non ho più DOMS allora vuol dire che hanno in 1-2 giorni almeno hanno bisogno di recuperare almeno 1-2 giorni scusate mi sto un po' finando e poi avvengono delle altre cose questo è il punto fondamentale non è che appena i DOMS scompaiono il muscolo recuperato anzi molto spesso sono il primo sintomo che scompare di un processo molto più ampio di recupero muscolare ne abbiamo parlato sul video del recupero muscolare ci sono molte componenti che devono recuperare quindi sostanzialmente meno durano i DOMS più velocemente sto recuperando almeno su questa componente più durano i DOMS più lentamente io sto recuperando e noi sappiamo che l'ipertrofia è la risultante di un rapporto stimolo-stimoli-recupero quindi se io ci metto tanto a recuperare andrò magari anche a stimolare tanto il distretto ma poi dovrò aspettare tanto per recuperare ho fatto un video sulla frequenza in cui parlo proprio di questo cioè se io ho uno stimolo immaginate di 10 e devo aspettare 7 giorni per gli dare lo stimolo di 10 e devo aspettare 7 giorni per gli dare lo stimolo di 10 nell'arco di 70 giorni ok? avrò dato 10 per 10 100 ma se io aspetto 3 giorni e mezzo quindi la metà per poter ridare lo stimolo nell'arco dei miei 70 giorni sarò cresciuto di 200 quindi sostanzialmente un recupero più veloce mi permette di riallenare il distretto più frequentemente e mi permette di crescere di più a parità di stimolo quindi partendo dal presupposto che non devo allenarmi meno ok? questo è l'errore che si fa quindi sostanzialmente il discorso è che i DOMS devono esserci possono esserci ma devono essere lievi e soprattutto finire in poco tempo e questo è un sinonimo del fatto che il recupero muscolare è più veloce cos'è che tipicamente diminuisce DOMS? di fatti è l'integrazione intra-workout cioè quando iniziate ad utilizzare buone dosi di carboidrati di amminoacidi o idrolizzati proteici durante il vostro allenamento e quindi da una parte riducete la risposta cortisolemica perché non serve il cortisolo per buttare il glucosio in circolo e ristoccare il grigogeno muscolare dall'altra avete una buona risposta insulinica dall'altra ancora fornite al distretto muscolare tutto quello di cui ha bisogno in un momento in cui c'è tanta iperemia per avviare i processi di recupero quindi questi processi di recupero iniziano subito per il distretto muscolare e lo rendete più anabolico quindi incentivate proprio questo recupero muscolare allora vedete che i DOMS diminuiscono e questo è un indice che effettivamente DOMS vuol dire recupero più veloce meno DOMS vuol dire recupero più veloce quindi più risposta ipertrofica maggiore risposta ipertrofica quindi come dovrebbero essere i DOMS? prima risposta i DOMS dovrebbero essere leggeri non super super accentuati va bene che ci siano possono anche non esserci non succede niente però va bene che ci siano l'importante è che siano leggeri se ci sono quelle 24 ore dopo iniziano dopo che ci siamo allenati e che durino poco quindi durino massimo altre 24 ore questo è un po' il parametro empirico che io utilizzo cioè ieri ho allenato petto la mattina tra poco vado ad allenarmi e già stamattina sento i DOMS al petto sono lievi quindi riesco a strizzarlo riesco a contrarlo riuscirei a allenarlo con poca poca efficacia però riuscirei effettivamente a allenarlo senza problemi non sono quei DOMS ogni tanto hai che non riesci neanche a strizzare so che domani mattina quando mi sveglio saranno andati via perché ci sarà un recupero molto molto veloce di tutto questo processo e ho allenato il petto se mi seguite sul mio log su Rhino Nation non ci sono allenato leggero sapete che non ci vado leggero ok che cosa succede se ho troppi DOMS? perché questa è la domanda che mi viene fatta che cosa devo fare? panico oddio io ho DOMS che durano tanto pensavo che fosse un buon segno che devo fare? allora la prima cosa che potete fare è rivedere il volume come detto i DOMS sono collegati ai processi di recupero quello che più impatta sulla capacità di recupero muscolare è il volume non è l'intensità come molti pensano le persone confondono ancora l'intensità intesa come effort del momento come fatica del momento con poi il recupero muscolare sono due cose diverse non è che se sul momento faticate tanto allora il muscolo recupera di più il volume è la componente che impatta più sul recupero quindi prima cosa capite quanto volume state facendo e valutate di ridurre leggermente il volume seconda cosa valutare i fattori extra in parallelo cioè se state dormendo poco se non mangiate abbastanza se siete stressati eccetera sono tutte componenti che riducono la capacità di recupero del distretto muscolare e quindi probabilmente interverrei anche prima su questi fattori potendo più che sul volume l'ultima cosa è aspettare nel caso in cui avviate dato uno stimolo nuovo per esempio finita la competizione tornato in fase di rebound e off season ovviamente i primi allenamenti il primo meso ciclo che ho fatto la prima rotazione avevo dei forti doms che duravano anche diversi giorni è normale è un nuovo stimolo torno a spingere decentemente ci sta semplicemente mi ci sono riallenato sopra in maniera blanda perché il distretto non aveva recuperato e il distretto si è subito adattato ad un processo di recupero un po' più veloce questo è il motivo per cui quando tendete a passare da un approccio dalla monofrequenza alla multifrequenza i doms si riducono perché io passo dal fare 20 serie allenanti a dividere 10 e 10 per dire e quindi il recupero è più veloce tra le stesse se ne faccio 20 avrò doms magari per 7 giorni quando ho fatto gambe quindi da questo punto di vista se avete dato un nuovo stimolo aspettate i doms si recuperano e si tendono a diminuire da soli questi sono un po' dei consigli generali poi logicamente qualsiasi domanda ragazzi scrivetemela qua sotto e sarò ben lieto di rispondere io l'ultima cosa che vi dico è questa fatemi sapere se vi può interessare un video però ne avevo già fatto uno forse su Rino Nation che può essere interesse ossia come capire se l'allenamento è andato bene perché vedo che ci sono c'è tanta confusione in merito cioè siamo tutti inevitabilmente ancorati siamo stati ancorati al discorso doms uguale allenamento è andato bene quindi adesso che vi ho fatto questo video voi mi direte ok non c'ho più doms come capisco che un allenamento mi è andato bene come faccio a realizzare ok ho dato lo stimolo ok il volume va bene ok questo qua questo là ovviamente serve tanta intimità di allenamento da creare ovviamente serve tanto tempo però se vi interessa come argomento fatemelo sapere sotto nei commenti e ci dedicherò un video con questo vi ringrazio di nuovo qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere noi ci vediamo ad un prossimo video